Benvenuti in questo video, questa dietro di me è un'ex discoteca di che anno? Tanti anni fa, infatti è abbandonata a nulla, non c'è più niente è un'ex discoteca vicino a casa mia praticamente qui ci venivano tanto persone a ballare, anche musica classica ma poi ha fatto anche dei periodi dove è venuto Mambolosco sono venute tante persone importanti anche ultimamente tra il 2018 e il 2019 e il 2020 circa con degli eventi che hanno organizzato in questa discoteca io ho intenzione in futuro, il mio obiettivo futuro è quello di aprire una discoteca obiettivo finale di vita, avere una mia discoteca il nome ce l'ho già pronto, ce l'ho già tutto impostato ok, questa è gigantesca, è grandissima come potete ben vedere è gigante, è grossissima però comunque non c'è più nessuno, non è più attiva non so da quanto non so se è attiva sinceramente, non so se è ancora attiva ovviamente faranno eventi di altro genere però non è più attiva tutte le sere come una volta e tutto così, capito? comunque il mio obiettivo finale di vita è essere quello di aprire una discoteca come farò? non lo so come farò ma io ho intenzione di farlo e farò di tutto pur di fare questa discoteca era composta, ha cambiato diversi nomi ed era composta da 5 sale da ballo attualmente si trova così, un po' comunque abbandonata a sé però non più curata, però come si vede è così questo è l'ampio parcheggio della discoteca molto grande e spazioso, come potete ben vedere eccoci qui, qui siamo vicino esattamente vicino, discoteca gigante, enorme non so se è ancora attiva, non so se esiste non so nulla aveva diverse sale da ballo all'interno e tante cose, era sempre piena mi sembra, se non sbaglio era sempre piena, mi sembra, non mi ricordo comunque negli ultimi eventi che abbiamo fatto nel 2019 l'evento con Mambolosco dove ero venuto qui nel 2019 era pieno c'era tanta gente ok, comunque è una grande discoteca molto grande, enorme e... ok e niente, tutto qua questo era quello che volevo dirvi grazie per aver visto questo video ci vediamo prossimamente in un prossimo Amafalco video grazie